Il tema del superbonus ha caratterizzato il dibattito politico nazionale del medio-lungo periodo. L'eco della diatriba è arrivato anche in sede regionale, dove il Partito Democratico, attraverso un comunicato, ha esortato la Regione Sicilia a intervenire per acquisire la cessione dei crediti. Le imprese, pubbliche e private, hanno avuto un forte rilancio dopo il blocco determinato anche dall'emergenza causata dal coronavirus. Ma adesso le problematicità legate alla cessione del credito stanno di fatto mettendo in ginocchio il settore edile e delle ristrutturazioni. Occorre che la Regione, dice il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenga istituendo un fondo, anche attraverso l'IRFIS, che acquisisca i crediti vantati dalle imprese, agevolando così il sistema produttivo e andando incontro all'intero settore che da tempo denuncia evidenti problemi per la farraginosità delle procedure esistenti per conseguire la cessione del credito. Per questo il Partito Democratico si fa promotore di un disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo predisposto, spiega il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, un disegno di legge che sulla falsa riga di quanto già avvenuto in Abruzzo e in Sardegna, preveda l'intervento diretto della Regione Siciliana in questo preciso ambito, anche attraverso il suo braccio operativo, l'IRFIS. Nella prossima conferenza dei capigruppo chiederemo la calendarizzazione e la trattazione con urgenza.